Il nuovo anno si apre con una buona notizia per la trasversale Orte Civita Vecchia. Il Ministro della Cultura ha infatti dato l'ok al progetto presentato da ANAS per il primo stralcio dei lavori. Il parere favorevole, vincolato al rispetto di alcuni vincoli ambientali, è scritto in una lettera del 9 dicembre scorso e firmata dal capo della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Luigi Larocca, indirizzata all'ufficio di gabinetto del MIC e al Ministero dell'Ambiente. Prescrizioni di carattere ambientale, quindi, sulle quali lo stesso Ministero dell'Ambiente dovrà esprimere l'ultimo definitivo parere di fattibilità, un passaggio comunque importante che conferma come la procedura di valutazione presso il Ministero dell'Ambiente, partita il 29 marzo dell'anno scorso, è arrivata ormai agli sgoccioli e che a breve, una volta raccolti i pareri degli enti, si dovrebbe conoscere il provvedimento definitivo sull'opera. Solamente a quel punto il commissario straordinario dell'ANAS per l'infrastruttura, Ilaria Coppa, potrà procedere con l'ultimo passaggio, la giudicazione degli appalti e l'avvio dei lavori. Si tratta in particolare della bretella di 5 km, una parte della quale è in galleria, studiata per evitare il centro abitato di Monte Romano, il famoso collo di bottiglia, dove oggi tutto il traffico finisce imbottigliato. Il tratto è compreso tra gli svincoli di Monte Romano Est e Tarquinia. La comunicazione è stata inoltrata per conoscenza anche alla Commissione Tecnica Via, alla Soprintendenza, al Commissario straordinario Ilaria Coppa e all'ANAS. La trasversale Orte Civitavecchia è un'opera ritenuta strategica per tutto il centro Italia, sulla quale si lavora da oltre 60 anni e per completare la quale la Regione Lazio ha più volte confermato lo stanziamento di 472 milioni di euro. Grazie a tutti.